Sunti, assassini reggeni, sempre l'Egitto continua a dimostrare scarsa collaborazione, questa può essere una cosa che ha ripercussioni sui rapporti bilaterali, specie in questo momento in cui l'Egitto è un interlocutore per dire la guerra a Gaza? Sono cose completamente diverse, un processo reggenio, un processo che sta andando avanti, siamo lieti che vada avanti, si deve accertare la verità, colpire i colpevoli, ma questo non ha nulla a che vedere con quello che accade in Israele, nella striscia di Gaza e in Medio Oriente. L'Egitto è un interlocutore importante, serve avere un lavoro positivo con questo paese perché tutti i palestresi che escono dalla striscia di Gaza, se vogliamo salvare i video umani, dobbiamo farlo insieme agli egiziani così come è stato fatto per i 100 bambini che abbiamo portato. Quindi non se ne parla assolutamente di avere ripercussioni da questo punto di vista perché sarebbe un danno per tutto il popolo palestinese.